Lungo il fiume Volturno, all'altezza del ponte 25 archi, tronchi e rami secchi che si sono accumulati nel corso dei mesi formano una sorta di diga naturale. Ed allora il primo cittadino di Montaquila ha preso carta e penna per inviare una lettera alle autorità coinvolte nella problematica al fine di denunciare la mancata manutenzione sul letto del fiume. Oltre alla missiva Marciano Ricci ha legato numerose fotografie che testimoniano l'occlusione per oltre due metri d'altezza di cinque delle sette campate che sostengono il ponte. La sesta, peraltro, è parzialmente ostruita, ne consegue che una sola campata è libera. In caso di piogge torrenziali, si legge ancora nella nota, la spinta sui piloni potrebbe compromettere la staticità del ponte. Nel documento Ricci ritiene sollevati il sindaco, l'amministrazione ed il municipio di Montaquila da qualsiasi responsabilità, non avendo del resto competenze in materia. Non può pertanto disporre la pulizia del fiume né intervenire con mezzi propri, come già accaduto in passato, se non preventivamente autorizzato da quegli stessi antititolati che avrebbero dovuto già provvedere da un pezzo al ripristino dei luoghi.